Assenti per protesta oggi tra i banchi di 13 scuole superiori tra le 14 presenti sul territorio del comune capoluogo, gli alunni che raggruppati sotto la sigla Scuole Unite hanno redatto e consegnato questa mattina un documento di proposte indirizzate al prefetto di Salerno, ma anche al sindaco di Salerno, all'assessore comunale all'istruzione e alla responsabile dell'ufficio scolastico provinciale. Dalla richiesta di un maggior incremento dei trasporti pubblici alla dotazione di mascherine FFP2 sono diverse le proposte raccolte nella lettera dove si chiede di valutare anche la fattibilità di uno screening su tutta la popolazione scolastica per avere a disposizione un quadro generale al fine di controllare eventuali focolai creati sia all'interno di una o più scuole. Ragazzi avete consegnato al prefetto la lettera nella quale avete racchiuso quelle che sono le vostre perplessità e le vostre richieste? Sì vabbè confrontandoci con i rappresentanti istituti di consulta delle scuole di Salerno abbiamo notato che c'è molta tensione nei ragazzi e che la situazione della scuola ormai è diventata precaria. Classi pollaio, trasporti affollati, alti contagi sono tutti elementi che ci hanno spinto a fare questa protesta. Oggi noi siamo in piazza non solo, siamo in piazza e abbiamo disertato le aule non solo per chiedere la DAD ma soprattutto per chiedere un potenzialmente dei trasporti, per chiedere uno screening di massa, per chiedere le FFP2 che sono mascherine che hanno una protezione maggiore a tutti gli studenti, cosa che non è stata garantita per ora. Molti di voi non sono riusciti a fare neanche i vaccini ancora? No infatti abbiamo deciso anche di fare questa richiesta appunto per dare anche la possibilità a tutti gli studenti di fare la terza dose di vaccino che appunto secondo le ricerche garantisce una maggiore protezione dal contagio. Come ha detto anche Giulio le mascherine FFP2 che adesso con la zona gialla che è stata messa in campagna sono diventate obbligatorie anche per i trasporti pubblici quindi visto che le nostre scuole, le scuole di Salerno hanno un'alta percentuale di pendolari sono fondamentali le mascherine FFP2. È vero anche che vivete condizioni di disagio legate al fatto che gli indicatori della saturazione dell'aria vi chiedono di aprire le finestre e quindi dovete fare anche i conti con il freddo? Sì, soprattutto questa problematica. Scuole che tengono le finestre aperte e quindi un maggior rischio per gli studenti di ammalarsi. Oltre che la situazione dei trasporti che è carente in tutta la provincia, soprattutto nelle zone periferiche. I dirigenti da che parte sono? Sostengono le vostre richieste? I dirigenti a quanto pare anche loro si sono fatti sentire, si sono pronunciati per chiedere la DAD. Io non riesco a capire il motivo per cui noi studenti, dirigenti, docenti abbiamo chiesto questa DAD e non vengono prese in considerazione le nostre richieste, anche perché 140 docenti sono risultati assenti per Covid, mentre altri 120 per malattia e motivi personali. Quindi c'è una mancanza proprio di personale, personaleata, che non riesce comunque, non riusciamo a garantire lo svolgimento delle lezioni. Grazie a tutti.